Il problema grosso è che l'azienda tendenzialmente si comporta come Andy Warhol, questo vuol dire che lascia all'invettiva, lascia alla soluzione contingente spesso non studiata, quindi è importantissimo saper fare bene, è altrettanto importante farlo sapere, farlo sapere, farlo sapere le persone giuste, farlo sapere nel modo corretto, soprattutto. Dobbiamo renderci conto che le aziende, così come le persone, hanno una tipologia di comunicazione che non deve essere mai distonica, hai un prodotto, il prodotto funziona, fa innovazione, puoi veramente dire qualcosa di nuovo nel mercato, la cosa importante è che quella cosa la dici in modo corretto e che raggiungi quel target del mercato che assolutamente è il tuo cliento, soddisfa la tua azienda. Ciao! Ciao!